Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, oggi vi porto al cospetto di un gigante del pensiero, vi porto al cospetto di uno dei padri delle scienze sociali, oggi vi porto al cospetto di Max Weber, prima lezione dedicata a Max Weber e oggi in modo particolare parleremo dell'agire sociale e poi dei tipi ideali. Max Weber nasce in Turinja nel 1864, per la precisione nasce ad Erfurt e nasce in una famiglia di industriali, di professori universitari, di alti funzionari del Reich e il padre di Weber è anche un esponente del partito nazional liberale. Max Weber però inizia subito ad appassionarsi alla storia e in modo particolare poi anche alla filosofia e si immerge capofitto nello studio di autori quali Hegel, Marx e Nietzsche. Si laurea con una tesi interessante, l'EPO ha considerato un proprio gioiello di ricerca sociale dal titolo Storia della società commerciale nel medioevo, storia delle società commerciali nel medioevo e spicca subito per ingegno, lungimiranza, per brillantezza e continua negli studi storici perché il suo lavoro di abilitazione si intitola Storia Agraria Romana del 1891. Insedia poi diritto ed economia politica all'Università di Friburgo e poi all'Università di Heidelberg e dunque ha una carriera universitaria importante, un intellettuale riconosciuto da tutti come veramente mente eccelsa, come vero e proprio pensatore delle nuove scienze sociali che stanno mettendo radici nell'Europa dell'Ottocento. Fonda poi nei primi del Novecento la società tedesca di sociologia. Vi dicevo appunto all'inizio che possiamo considerare Weber come anche Durkheim a cui ho dedicato una video lezione uno dei padri della sociologia. In questo caso fonda addirittura la società tedesca di sociologia. Non si tira in dito neanche di fronte all'impegno politico, critica l'antisemitismo che cresce nella Germania di Guglielmin, la Germania che va poi alla Prima Guerra Mondiale. Poi si iscrive anche al Partito Socialdemocratico tedesco e guarda con simpatia alla fondazione poi della Repubblica di Weimar. Morirà poi di polmonite appunto nel 1920. Max Weber è veramente un intellettuale a 360 gradi, è un metro a pensè delle scienze sociali ed è considerato anche un po' il Marx della borghesia, cioè colui che è riuscito anche a dare un supporto teorico al ceto medio e dunque ha delle posizioni di progressismo che cercano di mettere insieme il meglio della democrazia e il meglio del pensiero anche liberale e socialista. Cioè è un pensatore veramente innovativo ed è un pensatore che fonda di fatto le scienze sociali, il contributo per la fondazione delle scienze sociali è veramente notevole. Entra anche in polemica con altri autori dell'epoca perché Max Weber non pensa che ci sia un primato delle scienze sociali per comprendere il mondo. Le scienze sociali e le scienze biologiche, naturali, le scienze diciamo così in senso più rispetto del termine vadano a braccetto per la comprensione della realtà. La sociologia non può occuparsi di tutto, non può avere il primato fondativo di tutto, la sociologia come scienza fondativa della conoscenza della realtà come era per Comte, ma la sociologia deve occuparsi di qualcosa di ben specifico, in modo particolare deve occuparsi dell'agire sociale. Al centro della sociologia ci deve essere appunto l'agire sociale, un'analisi, un'indagine serrata appropriata sull'agire sociale. È di questo che vorrei appunto parlare con voi oggi. Secondo Max Weber appunto il compito della sociologia deve essere quello di intendere in virtù di un procedimento interpretativo, in virtù di un procedimento interpretativo, dunque che interpreta l'agire sociale. Bisogna intendere l'agire sociale, capire cosa sia l'agire sociale, fondare dunque una scienza dell'agire sociale e bisogna in modo particolare spiegare l'agire sociale a partire dalle cause. La causalità dell'agire sociale è al centro della riflessione di Max Weber. La causalità, le cause che determinano l'agire sociale. Tre sono gli elementi importanti per definire l'agire sociale. Innanzitutto l'oggetto. L'oggetto è una specie di forma di agire. La sociologia si occupa non dell'agire sociale, si chiama agire sociale proprio l'oggetto della sociologia. L'agire sociale è l'oggetto della sociologia. Ogni scienza deve avere un oggetto, la psicologia, l'antropologia, la geometria, la fisica, l'astrofisica, la chimica, la zoologia, la sociologia studia l'agire sociale, è l'oggetto del metodo sociologico. Poi il metodo qual è? E' l'interpretazione. Il metodo è interpretare l'agire sociale. Cosa fa il sociologo? Non si limita a constatare, questo è il passaggio veramente stupendo, è il fondatore in questo caso della sociologia, non si limita ad una dimensione descrittiva o di constatazione. Un uomo che attraversa la strada non rispettando il verde. Questo uomo attraversato, eventualmente mi chiedo perché ha attraversato la strada con il rosso. Non è che descrivo una piazza in cui ci sono manifestanti, una piazza in cui ci sono persone che prendono uno spritz. Questo agire sociale, manifestare o prendere uno spritz il venerdì sera, il sociologo non li analizza solo in maniera descrittiva, ma ci chiede le cause, dunque la causalità è al centro dell'indagine sociologica e il metodo è interpretare dunque quell'agire sociale. E il terzo punto elemento, lo strumento logico è la relazione causa-effetto, la relazione causale. Cos'è la causa? Qual è la causa? Cosa determina quell'agire sociale? E dunque l'agire sociale, l'interpretazione dell'agire sociale e l'individuazione delle cause dell'agire sociale sono, diciamo, la struttura, l'architettura della sociologia. La sociologia studia l'agire sociale, la sociologia lo studia con un metodo, quello interpretativo e va alla ricerca delle cause. Dunque per agire sociale si intende un'azione che è orientata, che ha un orientamento, che è orientata, e dunque non un'azione inspiegabile, che non è orientata, un qualunque orientamento, un qualunque intenzione che sta dietro ad un'azione, ad un'agire sociale. In quel caso lì io posso dire che è un'agire sociale, quando ne riesco a individuare le intenzioni e l'orientamento. Se una persona si butta giù da un ponte e non c'è una possibilità di capire l'intendimento, l'orientamento che ha portato a quell'azione, non possiamo parlare poi di agire sociale, perché il sociologo in questo caso deve stare silente, deve ammutulirsi, si azzittisce, perché non è stato in grado di capire il perché. A me non interessa tanto come sociologo perché una persona si è buttata, mi interessa capire perché si è buttata. Se non c'è una spiegazione causale e non c'è una interpretazione intorno ad una presenza massiccia di donne in una piazza, di studenti in una piazza, di persone che si affollano un cinema all'aperto, che decidono di passare ore e ore su TikTok, non c'è dunque un procedimento sociologico. Io riesco a capire perché il suicidio si è girato dal ponte, in quel caso sono in presenza di un'agire sociale. Dunque l'agire sociale, a sfondo poi emozionale, economico, politico è l'oggetto dell'indagine e l'agire sociale deve essere interpretato, interpretato le sue cause e nei suoi effetti. Un'agire sociale dettato dal panico economico, dettato dalla ricerca del profitto, dettato dalla voglia di riscattare la propria condizione economico-sociale, dettata da una dimensione di patriarcato, di guerra, di pace, un'azione sociale determinata dalla paura, un'azione sociale determinata da una voglia di libertà. Un'azione sociale va individuata nelle sue cause, va interpretata nelle sue cause e nei suoi effetti. Che conseguenza ha avuto questa agire sociale delle donne, degli uomini, degli operai, dei commercianti, dell'esercito? Che effetti ha avuto l'agire sociale? E' questo il grande argomento della sociologia di Max Weber. A questo punto Max Weber elabora la sua celeberrima teoria dei tipi ideali, gli idealtipi, cioè la sociologia riconosce degli idealtipi di agire sociale, dei criteri, Weber individua, per stabilire appunto delle topiche, degli ideali, diciamo, tipi, cioè di comportamento di agire sociale. Innanzitutto c'è un atteggiamento razionale in rapporto ad uno scopo. Le persone che sono razionali nel perseguire uno scopo, cioè cercano dei mezzi per perseguire uno scopo, potrebbe essere un allenatore di una squadra di calcio, di rugby, di basket, di pallavolo, un'allenatrice, uno stratega, cioè io agisco razionalmente in vista di uno scopo. Sto facendo un gioco da tavola, gioco a risico, a monopoli, scelgo una strategia, agisco in maniera razionale, agisco in maniera razionale in vista dell'apertura di un mio negozio, vado a cercare quartiere, la presenza di altri negozi di questo tipo, la locazione di merci, la distribuzione, agisco razionalmente in vista uno scopo ed è l'agire razionale appunto in vista di uno scopo. Poi c'è l'azione razionale rispetto a un valore, cioè scelgo di comportarmi in razionale ma subordio la razionalità ad un valore, la fedeltà, l'onore, il rispetto, la dignità o dei valori poi etico-religiosi, politici. Il capitano che non abbandona la nave mentre essa sta naufragando è un agire razionale, cioè scelgo di non abbandonarlo perché ho un valore da seguire, il capitano non abbandona mai la nave, è l'ultimo ad abbandonare la nave, questo atteggiamento di scelta razionale che però io compio a partire dall'adesione ad un valore. Poi c'è l'atteggiamento affettivo, io seguo gli affetti, le emozioni, i sentimenti nel mio agire, dovrei andare appunto ad una conferenza, compro invece un mazzo di fiori e corro dalla mia fidanzata e il mio fidanzato, canto sotto la sua finestra una serenata, lei scende e gli do un mazzo di fiori. Agisco in maniera affettiva, legata agli affetti, dagli amori oppure affettivi dalla rabbia, cioè scelgo di agire o agisco sotto l'impulso degli affetti. Max Weber non è comunque uno psicoanalista, la sfera poi dell'emotività legata alla psiche, all'inconscio non è presente in Max Weber nonostante ci siano già delle conoscenze adeguate, diffuse, perché la riduzione freudiana è avvenuta. Questo è l'agire affettivo, ad esempio io so che non devo passare magari il compito alla mia amica o amico perché la professoressa mi vede, me lo ritira, mi dà 3, mi dà 4, ma per affetto glielo passo, è diverso glielo passo perché mi dà 100 euro, va bene, glielo passo perché sono legato, non voglio che venga rimandata la verifica di fine anno di latino, di matematica, di inglese, gli passo appunto la verifica, lo aiuto nella verifica, perché? Perché c'è un affetto che ci lega, questo affetto che ci lega è anche la causa del mio agire. Poi c'è l'azione tradizionale, cioè io scelgo le cose in base alla tradizione, mi sposo perché? Perché l'hanno fatto tutti così in famiglia, perché la mia tradizione islamica, induista, caristiana, cattolico, perché nella mia famiglia? Vado a fare il carabiniere, il militare, perché? Perché è tradizione di famiglia, dunque c'è un agire che appoggia su valori, in questo caso tradizionali, sulla tradizione, sull'abitudine. continuo a lavorare nell'azienda di famiglia, continuo ad abitare qui, perché? Perché non voglio lasciare la casa, già una dimensione affettiva, ma anche poi abitudinaria del valore tradizionale della mia famiglia, non voglio abbandonare la casa della mia famiglia. L'agire dunque è sempre orientato, razionale, affettivo, tradizionale, valoriale, è sempre un agire ovviamente orientato. La cosa centrale però in Max Weber qual è? È questo agire orientato che Max Weber delinea poi con gli ideal tipi, è però un agire orientato di fatto rappresentazione universale, utopica. Gli agire di cui parla gli ideal tipi, cioè la produzione della sociologia, non è un'analisi della realtà, ma è un'astrazione, dunque una rappresentazione utopica, è un modello. La sociologia elabora modelli, i modelli si usano poi per interpretare la realtà, per conoscere, per coglierne cause e conseguenze, per coglierne delle caratteristiche, dunque sta fondando le scienze sociali, sta fondando la sociologia per Max Weber, perché il modello è una rappresentazione utopica di azioni, di agire sociali orientati e io con quei modelli poi provo a capire la realtà che mi circonda, provo a capire l'agire sociale degli ultra, l'agire sociale dei operai, l'agire sociale dei studenti, dei liceali, di quei del tecnico, l'agire sociale del mondo del commercio, delle donne, l'agire sociale dei soldati, dei pirati, l'agire sociale dei contadini, l'agire sociale della burocrazia, l'agire sociale appunto dei politici, l'agire sociale io lo interpreto poi a partire anche da degli idealtipi, allora probabilmente potrei dire che Hitler andando all'attacco di Stalingrado quando aveva ancora terminato la vittoria in Russia è stata forse un agire forse affettivo, nel caso di odio nei confronti di Stalin, un agire pure impulsivo, probabilmente non un agire razionale rispetto uno scopo, oppa se è stato questo, uno scopo mal calcolato, mal ragionato, dunque sono dei modelli. Conclusioni, cosa sono gli idealtipi? L'idealità, l'idealtipo non riflette, non descrive la concretezza dei fenomeni, l'idealtipo è appunto una rappresentazione pura, lontana dalla realtà, ma che mi serve per provare a valutare ovviamente la realtà, ma non è una valutazione morale, è sempre un problema, dice Max Weber, valutare in maniera morale la società, non deve il sociologo dare una valutazione morale, ma deve provare a interpretare in maniera razionale, in maniera oggettiva, causale, conseguenziale, la realtà. Dunque gli idealtipi non sono una rappresentazione concreta oggettiva dei fenomeni, non sono neanche ovviamente un criterio per dare un giudizio morale, ma anzi sono lontani dalla realtà per cercare però di poterla comprendere. Dunque è un'idealità pura, è una categoria, la sociologia produce dunque dei concetti, delle categorie di stampo ideale universale che servono non per dare giudizi morali, ma per provare a comprendere le dinamiche causal-consequenziali della realtà. Questa è la prima lezione dedicata a Max Weber, sotto metto un link se potete sostenere il progetto su tp, se avete invece dei libri, mi raccomando Max Weber va assolutamente studiato e dovete mettere anche Max Weber nella mia grande cassetta degli attrezzi per poter provare a decodificare la realtà. Prossime settimane, i prossimi giorni, seconda lezione dedicata appunto al grande filosofo-sociologo tedesco Max Weber.